Buonasera, io sono Giargo e i ragazzi che mi accompagnano live sono Ibai Azaiana. Vi invitiamo, in maniera libera e creativa, al latte più live di Brescia, il 19 ottobre, per la finale di musica da bere. Si beve e ci si diverte. Vi aspettiamo. Fanno da sfondo alla poesia, di notti senza te, non resta che un'idea. E averti qui mi basta e metto, ciabatta che casetta, stasera è nata a testa, mi hai fatto una promessa, e già non mi ricordo che io mi faccio in canna d'armi, perché mi piace male, che da giocare male, se non mi risponde anche io.